Salve a tutti! Nell'altro video abbiamo visto qualche esercizio per mobilizzare la schiena. Oggi invece vediamo come allungare i glutei, perché insieme ai muscoli lombari sono quei muscoli che collaborano appunto a tenerci in piedi e che a volte possono andare incontro a delle tensioni, contrazioni, contratture e quant'altro. Questo esercizio è semplicissimo, lo possono fare anche le persone che lavorano in ufficio e dicono che non hanno molto tempo per fare gli esercizi che li propongo, quindi questa è fatta apposta per non avere scuse. Quindi semplicemente piegate la gamba destra sulla sinistra, con la mano destra fermate il ginocchio oppure se avete più mobilità potete fermarlo anche con l'avambraccio e semplicemente con la schiena bene retta cercate di portare l'ombelico dentro l'incavo delle gambe, quindi belli dritti, espirando come al solito. Dentro mantengo la posizione, fuori guadagno qualche centimetro. Poi rilascio piano piano, se ho bisogno accompagno e cambio gamba. L'allungamento deve essere proprio percepito sulla parte laterale del sedere, quindi gamba sinistra sulla destra, mano o avambraccio sul ginocchio, schiena ben allineata, inspiro e espirando stabilizzo il ginocchio e porto l'ombelico nell'incavo. Ok? Come per gli altri esercizi bastano semplicemente qualche minuto per allungare la parte e l'esercizio può essere ripetuto due o tre volte al giorno. Mi raccomando, fatelo!